Questo è il Simone Tomasini Podcast e quella che segue è una conversazione con il professor Alessandro Spreduti. Alessandro è professore ordinario dell'Università di Padova ed insegna il corso di laura magistrale in computer science, occupandosi, tra le altre cose, di intelligenza artificiale e deep learning. In questa conversazione parliamo di intelligenza, intelligenza artificiale, quelli che sono i rischi e quelli che sono i benefici. Se desideri supportare questo podcast puoi farlo iscrivendoti al canale, cliccando mi piace oppure seguendoci sui social. Buon ascolto! Che cos'è l'intelligenza? È difficile dare una definizione di intelligenza. Se pensiamo al mondo nella natura possiamo parlare di intelligenza anche per quanto riguarda gli animali, quindi spesso noi abbiamo la presunzione di essere l'unica entità vivente del mondo che è dotata di intelligenza. Esiste anche intelligenza sociale, ad esempio le formiche sono in grado di organizzarsi in modo da avere comportamenti intelligenti finalizzati a quello che è il loro obiettivo, ad esempio di procurarsi cibo. Per gli umani anche è difficile dare una definizione formale di intelligenza. Io ho una definizione da proporti, però volevo sapere cosa ne pensi. Può essere che l'intelligenza sia la capacità di risolvere problemi? Non necessariamente. Bisogna vedere come si definisce il problema, perché per esempio l'intelligenza relazionale risolve il problema di come porsi verso altre persone in modo da farle sentire al loro agio e essere in grado di scambiare informazioni o anche emozioni in maniera facile e senza ostacoli. Sì, nel senso che qualsiasi task può essere visto nell'ottica di un problema. Problema non in senso negativo, non per dare un giudizio di valore in merito all'atto in sé, però il fatto, che ne so, per cui l'intelligenza espressiva può risolvere il problema di un significato che io ho nella mia testa e voglio farlo aggiungere a te. Ad un certo punto di vista anche un po' qualsiasi espressione umana può essere vista come intelligenza, per cui penso ad esempio a un pittore che dipinge, ha un problema e il problema è che dentro di sé, nella sua testa, c'è un'immagine chiara e lo deve trasferire poi su una tela. Quindi in quest'ottica qua l'intelligenza potrebbe assomigliare un po' alla risoluzione di problemi o a riuscire a portare a termine un task forse? Sì, cioè sempre magari non esplicitato a una funzione obiettivo, un goal, un obiettivo che si vuole raggiungere. E spesso si usa il concetto di intelligenza in quel senso lì, cioè dato un problema, un problema significa raggiungere un obiettivo, no? Sì. Che può essere di varia natura. Quando parliamo di intelligenza si pensa non solo alla possibilità di raggiungere l'obiettivo, ma di solito anche farlo rapidamente. Quindi diciamo forse ci sono due livelli e si può anche dare un grado di intelligenza, no? Per cui si dice che una persona non è in grado se non riesce a risolvere il problema. E poi c'è la persona particolarmente brillante e intelligente che risolve il problema molto velocemente. Quindi diciamo possiamo anche dare forse una gradazione di quella che è, diciamo, l'intelligenza. Certo. Un po' assomiglia anche alla differenza tra efficacia ed efficienza, no? Forse. Cioè il fatto c'è un'efficacia nel risolvere i problemi e poi c'è anche un'efficienza nel senso che… Esatto. Quindi se tutte e due sono al top abbiamo una persona considerata molto intelligente. Certo. Bene. Ci ho detto che cos'è l'intelligenza artificiale? Ecco, l'intelligenza artificiale è un po' più difficile perché siccome dobbiamo insegnare ad un computer a comportarsi in maniera intelligente, un computer ha bisogno di istruzioni precise e formali. E quindi è difficile dare una definizione formale del nostro concetto di intelligenza. La comunità scientifica ha trovato come accordo per il momento quella di pensare a un'intelligenza artificiale come un agente razionale in grado di appunto raggiungere un obiettivo. Quindi viene definita una misura di performance, di prestazioni rispetto ad un particolare task. E con le risorse a disposizione che possono essere finite, l'agente in maniera razionale cerca di massimizzare il più possibile le prestazioni. Quindi questo non significa che l'agente abbia successo nel trovare una soluzione. Perché se le risorse che ha a disposizione non permettono il raggiungimento dell'obiettivo, ovviamente sarà impossibile per l'agente raggiungere l'obiettivo. Quindi si pone un'enfasi anche su quali sono le risorse computazionali o di interazione con l'ambiente attraverso manipolatori o attraverso, perché parliamo di agenti non solo hardware, quindi fisici, ma anche di agenti software. Quindi ad esempio bot che possono viaggiare su internet alla ricerca ad esempio di informazione che rappresenta l'obiettivo del bot stesso. Certo, che peraltro il tema di bot è un tema caldo, adesso ci stiamo avvicinando anche alle elezioni statunitensi. Ricordo come nelle elezioni passate ci fosse un po' il tema, anche in quella prima probabilmente, ci fosse un po' il tema di bot che ad esempio influenzano l'opinione pubblica postando in maniera autonoma su dei social media, giusto, social network. Sì, non solo, è recente il fake della voce di Biden che appunto non era lui con un messaggio che essenzialmente cercava di danneggiare la campagna elettorale di Biden. Sì, sì, che è un po' il problema dei deepfake, è un po' il problema di queste intelligenze artificiali che sono ormai talmente evolute che riescono di fatto a creare da un punto di vista audiovisivo praticamente qualsiasi cosa, mi pare di capire. Sì, diciamo che la qualità che si può raggiungere è molto alta. Questo è dovuto al fatto che i media ormai lavorano in digitale, quindi l'idea è quella di utilizzare appunto questi sistemi per poter generare tutta una serie di immagini, suoni, anche testo che sono difficilmente distinguibili da quella che può essere una registrazione da un umano. Quindi di fatto questo è la realtà già da diversi anni e con il tempo questi metodi si stanno affinando sempre di più. Facendo un passo indietro dal punto di vista di persona che non è addetta ai lavori, quindi io sono una persona che è curiosa, però diciamo non vivo all'interno del mondo ecco, del software, dello sviluppo software, dell'intelligenza artificiale. Diciamo, credo che per la grande popolazione ci sia stato un grande spartiacque più o meno un anno fa, se non ricordo male, quanto ChatGPT è diventato improvvisamente di dominio pubblico. Quindi questa intelligenza artificiale, questo modello linguistico mi sembra che si autodefinisca che è in effetti abbastanza, come dire, eclatante nel modo che ha di rispondere alle domande nel senso che se interagisci con questo strumento hai la sensazione di avere a che fare con un essere umano. Se capisco bene, questa capacità diciamo di ingannare, tra virgolette, sembrare un essere umano viene chiamato il test di Turing, è corretta come definizione oppure no? No, diciamo che Turing negli anni 50 aveva proposto questo test che consiste nel avere un scenario in cui c'è un umano che interagisce con un'entità che è dietro di un muro attraverso un canale di comunicazione quindi non sa chi c'è dietro il muro e scambiando messaggi in linguaggio naturale deve capire se dall'altra parte del muro c'è un umano o una macchina. Quindi secondo Turing l'intelligenza artificiale poteva essere definita e certificata come intelligente solo se riusciva a ingannare l'umano che interagiva con lei. Di fatto è già, diciamo, questo tipo di test in parte era già stato passato da un bot negli anni 60, Elisa, che usava delle tecniche di comunicazione, diciamo, in ambito psicologico e era riuscita ad ingannare più di qualche umano nel far credere che fosse umana. Di fatto però è considerato il test di Turing come abbastanza ragionevole per capire se c'è intelligenza oppure no. Quello che succede però con strumenti tipo Chargpt è, in ambito scientifico, vengono chiamati Parrot, quindi i pappagalli, perché di fatto riproducono quella che è un tipo di creazione di sentenze plausibili dell'umano, aggiungendo a questo però anche del contenuto informativo. Questo si ottiene attraverso essenzialmente due tecniche combinate insieme, oltre al fatto di aver aumentato la dimensione del modello, di cui magari poi parleremo successivamente. Una tecnica è il self-learning e l'altra tecnica è quella del rinforzo tramite feedback umano. Quindi OpenAI, che è la società che ha creato Chargpt, anche grazie al supporto poi di Microsoft, che ne ha acquisito i diritti sul modello. E ha chiuso, giusto? Se capisco bene, non è più Open, ma è diciamo un modello. Esatto, diciamo che è nato originariamente, come una decina di anni fa, come una società, una start-up, che doveva contribuire allo sviluppo dell'intelligenza artificiale in maniera open. Questo è stato vero nei primi anni, poi dopo, invece, con l'acquisizione di Microsoft del modello, non sappiamo più, non abbiamo più dettagli precisi di cosa di fatto viene creato, come vengono creati questi software, se non a grandi linee. Però Microsoft, per, diciamo, sfruttare al meglio appunto questa proprietà di questo modello, ha permesso a OpenAI di mettere a disposizione, come servizio online, il modello stesso, che dal punto di vista del business è stata una grande operazione di marketing. Non in dolore dal punto di vista economico, perché questi modelli, come c'è GPT, hanno miliardi di parametri e richiedono centinaia di GPU per sia essere allenate, ma anche solo per rispondere alla miriade, anzi, ai milioni di query che vengono fatte via internet al modello stesso. Quindi il costo di mantenere su questo modello non è un costo indifferente. Certo. Parliamo un attimo di complessità. Una delle idee che circola un po' nel mondo della Silicon Valley e poi trapela, insomma, dai vari podcast, dalle varie persone che intervistano appunto, chi lavora e chi opera in quell'ambito lì. Una delle idee è che, che ho sentito più di una volta, che alcuni, ad esempio, software o algoritmi, non so come sia giusto definirli, ma sono talmente complessi, per cui nemmeno gli sviluppatori sanno esattamente che cosa sta accadendo all'interno. Per cui si dice che, ad esempio, lo stesso motore di ricerca di Google è talmente complesso che nessuno sa esattamente che cosa stia accadendo dentro. È vera questa cosa oppure no? Ma questo è un problema fondamentale dell'informatica che è stato trattato da un punto di vista formale. diciamo, già agli albori dell'informatica è stato dimostrato che è impossibile per un computer, quindi per un programma, decidere se un altro programma terminerà la sua esecuzione oppure no, dati determinati, dati in ingresso. Così come anche un programma non riesce a, diciamo, prevedere tutto quello che potrebbe succedere dando diversi input in ingresso ad un altro programma. Quindi, di fatto, questo limite è un limite magari non conosciuto dalla gente comune per quanto riguarda l'informatica. A scuola si studiano le leggi della fisica, le regole matematiche che ci servono per le attività quotidiane, non per tutti, ma in ambito ingegneristico e così via, in università si approfondisce questo tema. Nelle scuole superiori si adesso insegna la programmazione e c'è il dibattito su quanto giovani possono essere gli studenti per iniziare a programmare. Dal mio punto di vista, già alle elementari, se è posta la programmazione come un gioco, è utile per formare, diciamo, le menti degli studenti in maniera, diciamo, che possa favorire poi lo sviluppo di interesse e di proficienza e efficienza nell'ambito della programmazione. Anche se, apro parentesi, si dice che con l'intelligenza artificiale non ci sarà più bisogno di avere il programmatore. Staremo a vedere. Chiusa parentesi, quindi quello che spesso, e io lo osservo perché insegno qui a Padova in un corso di laurea di informatica, il primo corso di informatica che loro vedono, che è l'architettura degli elaboratori, la prima domanda che io faccio ai miei studenti, gli chiedo, ma siete consapevoli che un computer non può calcolare qualunque funzione che è possibile definire? E essenzialmente ogni anno riscontro il fatto che alle superiori non danno questo tipo di informazione. Quindi il fatto che un computer non possa calcolare tutte le possibili funzioni, come appunto questa funzione di determinare se un programma con determinato input terminerà la sua esecuzione oppure no, è una delle basi fondative dell'informatica. C'è, interagendo con ChatGP, io lo utilizzo molto, ChatGPT, sia per curiosità, ecco, ma anche per lavoro, ho provato a chiedere a ChatGPT di darmi una definizione semplice, cioè in grado di poter essere compresa da chiunque, di self-supervised, che tradotto in italiano significa auto... Apprendimento. Auto-apprendimento, fondamentalmente. E la definizione di ChatGPT è questa, dice In breve, nel self-supervised learning, il computer si dà da solo il compito e impara da solo a risolverlo, senza bisogno di un insegnante umano che gli dica cosa guardare o come fare. Questo tipo di approccio è utile perché può aiutare il computer a imparare da enormi quantità di dati senza la necessità di avere un umano che etichetti ogni singolo esempio. Cioè, e poi concludeva fondamentalmente, dopo avergli fatto una serie di domande, concludeva e diceva che di fatto significa che l'intelligenza artificiale apprende in maniera autonoma. Allora, questa definizione non è corretta nella parte iniziale. Prova a rileggere l'inizio. Allora, nel self-supervised learning il computer si dà da solo il compito... E qui la parte sbagliata. Perché è vero la seconda parte, cioè è vero che non c'è bisogno di un umano che dia, diciamo, istruzioni su come svolgere il compito. Ma non è vero che è il computer che decide cosa fare, essenzialmente. Perché quello è invece un compito che viene dato in maniera, diciamo, statutaria all'inizio dell'apprendimento. Ad esempio, prendiamo CiaGPT. CiaGPT è basato su un cosiddetto modello del linguaggio naturale. Linguaggio naturale è riconosciuto essere difficilmente caratterizzabile da regole rigide e deterministiche. Come può essere la famosa grammatica di Chomsky che definiscono delle regole di generazione di sentenze che appartengono o meno ad un linguaggio. essenzialmente sono le regole che si usano, ad esempio, nei linguaggi di programmazione dove non ci può essere ambiguità. Bisogna che quando si scrive un programma si capisca cosa il computer deve fare. Quindi il linguaggio deve non essere ambiguo. Linguaggio naturale è, per sua definizione, ambiguo molto spesso. Quindi il modo in cui la scienza ha cercato di caratterizzare il linguaggio umano è come una distribuzione di probabilità su tutte le possibili sentenze che si possono comporre a partire dalle parole. Quindi se io inizio una frase dicendo oggi sono c'è una probabilità, diciamo, che dopo la parola sono ci sia andato oppure è stato. Se io invece faccio seguire oggi sono oggi sono forse farmi vedere se riesco oggi sono viaggiare non è grammaticale. Certo. Quindi la probabilità di questa sentenza è pari a zero. È pari essenzialmente a zero o quasi. Esatto. Poi l'altra caratteristica appunto del linguaggio naturale è che dipende dal contesto per cui il significato di una parola può cambiare in funzione del contesto in cui questa parola si trova. Quindi in questi tipi di modelli c'è l'umano che dà appunto un compito più generale che è quello di apprendere questa distribuzione di probabilità in vari modi. Ok. Quindi è vero che non c'è bisogno di un umano che dice all'intelligenza come deve rispondere ad un determinato input. Quindi quali deve essere l'output ad un determinato input. Perché? Perché essenzialmente se vogliamo per esempio caratterizzare questa probabilità possiamo semplicemente utilizzare frasi nel linguaggio che ci interessa o anche indipendentemente dalla lingua se è inglese francese italiano su internet è possibile accedere a una miriade di testi ben formati che quindi di fatto sono campioni di questa distribuzione di probabilità e quindi possiamo ad esempio insegnare ad un modello cosa di prevedere qual è la probabilità di continuare una frase parziale con una certa parola perché semplicemente perché il modello è stato allenato su miliardi di sentenze e quindi è in grado di prevedere quale potrebbe essere una continuazione di fatto quello che il modello apprende non è una relazione uno a uno quindi funzionale ma prende una distribuzione di probabilità su le parole quindi sul dizionario tecnicamente poi si parla anche di sottoparole perché ci sono poi anche aspetti linguistici per esempio la radice dei verbi e così via però se vogliamo semplificare il modello dato a un certo inizio di sentenza restituisce in output una distribuzione di probabilità condizionata rispetto a quel inizio di sentenza e quindi il sistema può essere configurato in modo da restituire in output o la parola che ha maggiore probabilità o semplicemente si va a campionare questa distribuzione di probabilità e quindi a volte verrà fuori una parola altre volte un'altra ovviamente la parola che ha probabilità più alta avrà più probabilità di essere selezionata e questo tipo di generazione può essere anche controllata tecnicamente da dei parametri nel caso di CiaGPT si parla di temperatura che è uno dei parametri appunto che serve a condizionare come viene fatto il campionamento sulla distribuzione di probabilità quindi in quella sua autodefinizione ha trascurato il fatto che diciamo GPT che è il modello diciamo di linguaggio naturale alla base di CiaGPT poi c'è il CiaGPT in più perché quel modello lì è stato poi affiancato da un altro modello che essenzialmente riproduce il feedback umano sui possibili output che il modello può dare proprio perché ha questa distribuzione di probabilità e quindi è stato corretto il modello in modo da interagire secondo quella che da parte di nella prima versione di CiaGPT erano 40.000 umani che avevano fatto un ranking delle possibili risposte del del modello e quindi questo poi ha aiutato il sistema a capire come qual è il processo logico giusto da adoperare ecco se parliamo di logica lì ancora siamo lontani da avere un processo logico convincente essenzialmente CiaGPT tramite queste due tecniche adesso negli sviluppi più recenti è stato visto che si può rimuovere anche questo modello di rinforzo umano e usare direttamente il rinforzo dato dagli umani per migliorare ulteriormente il modello quindi se capisco correttamente ad oggi se noi togliamo l'essere umano dal processo l'intelligenza artificiale non riesce ad auto migliorarsi completamente oppure no cioè immaginiamo che domani la razza umana si estingua non lo so per qualche ragione o comunque che gli esseri umani non interagiscono più con questi strumenti c'è un processo di crescita che rimane oppure no nella situazione attuale bisogna che si capisca una cosa molto semplice che Nello Cristianini nel suo libro La scorciatoria che io consiglio di leggere perché è un libro che si legge molto facilmente divertente lui spiega in maniera diciamo secondo me molto convincente e intelligente il fatto che appunto perché si chiama La scorciatoria è il titolo del libro perché diciamo che la macchina fa quello per cui è stata programmata nel senso che se si dà una funzione obiettivo un goal da raggiungere come raggiunge questo obiettivo non importa semplicemente il computer cerca di raggiungere l'obiettivo magari in modi che per un umano sono considerati non etici ok faccio un piccolo esempio rubo annello un episodio diciamo un racconto che lui usa per esemplificare questo tipo di situazione perché lui fa riferimento a un racconto gotico di una famiglia inglese di umili origini dove hanno il figlio che lavora in fabbrica hanno un mutuo sulla casa e una sera un amico di famiglia li va a trovare di ritorno da un viaggio in Asia e gli porta come regalo una zampa di scimmia la zampa di scimmia dice ha poteri magici per cui loro possono esprimere tre desideri e questi desideri saranno poi dopo realizzati allora dopo aver salutato l'amico la famiglia di sera fa la riunione di famiglia diceva quali sono i desideri che vorremmo allora tutti concordano che la prima cosa è la casa per cui hanno bisogno di 200 sterline questo è un racconto del 1800 per estinguere il mutuo sulla casa e quindi sarebbe utile avere questi 200 sterline per cui questo è il desiderio della sera per cui vanno a dormire sperando che la mattina successiva questo desiderio sia esaudito la mattina si svegliano fanno colazione non succede niente il figlio va a lavorare e allora i genitori rimasti a casa dicono ma questa zampa di scimmia non serve a nulla poco prima di pranzo qualcuno bussa alla porta vanno ad aprire e si presenta un delegato della società dove lavora il figlio e dicono ci dispiace comunicarvi che purtroppo vostro figlio è morto per un incidente di lavoro però per compensarvi di questa perdita vi offriamo 200 sterline in modo che almeno ci sia un contributo certo ecco quindi questo è che la morale un po' che anche le conseguenze si può avverare tra virgolette un desiderio ma però possono esserci delle conseguenze un prezzo da pagare esatto quindi diciamo perché la comunità europea spinge molto su questa idea del trustworth quindi un AI che sia affidabile che sia trasparente che sia non dannosa per l'umano proprio per questo motivo per cui l'idea anche di avere l'AI act quindi questa regolamentazione dell'intelligenza artificiale per cercare di porre dei paletti o comunque dare un contesto legislativo che regoli il modo in cui l'intelligenza artificiale viene a essere utilizzata e che tipo di intelligenza vogliamo si basa proprio su questa osservazione cioè sul fatto che parliamo di un computer anche CiaGPT non ha una sua coscienza la coscienza è anche un altro aspetto forse dell'intelligenza sicuramente quella umana e il linguaggio di fatto è un veicolo poi dell'intelligenza perché permette di trasmettere informazione computer perlomeno in questo momento non ha non ha coscienza sebbene se è difficile definire intelligenza definire coscienza probabilmente è ancora più difficile che cos'è chiamiamola autocoscienza autocoscienza ok la consapevolezza la consapevolezza di essere un'entità un individuo che interagisce con l'ambiente e con altre entità una delle cose che a me ha sempre affascinato è l'idea che anche con questa definizione di autocoscienza per certi versi si potrebbe ipotizzare o perlomeno ho sentito alcune persone sviluppare questo argomento e le ho trovate credibili non sono riuscito a trovare delle falle logiche in questo argomento si può ipotizzare che persino il regno vegetale sia dotato di una sorta di autocoscienza perché gli alberi i fiori voglio dire modificano il colore dei petali a seconda del fatto che questo aumenti la probabilità che le api si fermino su quel fiore in particolare quindi forse l'autocoscienza è veramente qualcosa che non è solo dell'essere umano ma è proprio della allora lì ci sarebbe molto da discutere nel senso che l'evoluzione funziona proprio si considera funzionare proprio in modo da favorire questo diciamo la la creazione di esseri sia vegetali che animali in grado di sopravvivere all'interno del proprio ambiente e anche di poter continuare in questo tipo di diciamo situazione quindi può vedere si può vedere quell'adattamento come un adattamento di tipo meccanico piuttosto che è l'evoluzione che è la forza motrice non l'autocoscienza esatto anche se diciamo ci sono personaggi della scienza anche della tecnologia come ad esempio Federico Faggin che pensa che tutto sia diciamo un'espressione di una forza quantistica del mondo e che quindi siccome lui parte da un' osservazione del fatto che di fatto tutti noi siamo connessi perché ci troviamo immersi in un ambiente diciamo di materia di chimica che anche se non riusciamo a percepirla in maniera esplicita permette di scambiare informazione e quindi la fisica quantistica di fatto presuppone anche che ci possa essere l'entanglement di due particelle molto distanti fra di loro quindi che si influenzino fra di loro lui ritiene che sia la natura quantistica della materia che porta a delle espressioni che poi sono gli esseri umani diciamo tutte gli esseri viventi del mondo e che l'autocoscienza sia una parte di questo tipo di diciamo fisica che è di fatto esprime delle identità nella unità del del mondo qui andiamo diciamo su delle teorie che sono difficilmente verificabili col metodo scientifico perché per definizione metodo scientifico ha bisogno di fare misure cosa che in ambito quantistico diventa molto difficile di fatto impossibile per lo meno per quello per quelle che sono le nostre conoscenze attuali però diciamo se volessimo sintetizzare un po' con una frase il concetto questo concetto è l'idea che la separazione ogni separazione è di fatto solamente un'illusione nel senso che anche la separazione tra i nostri due corpi è un'illusione nel senso che tra me e te c'è un insieme di particelle e qualcosa ok e che quindi un po' rimanda all'unitarietà del tutto è estremamente affascinante comunque sono cose che a me riempiono di un senso di meraviglia enorme non comprendendone ecco io non sono un esperto in materia però quando trovi una persona come in questo caso come hai fatto tu che l'hai spiegata in maniera così chiara c'è proprio un senso di meraviglia perlomeno in me che nasce l'idea di dire quante cose non conosciamo e quanta sicuramente sono più quelle che non conosciamo che quelle che conosciamo ecco questa idea qua mi collego alla domanda che volevo farti adesso la colleghiamo al concetto di umiltà epistemica umiltà epistemica significa essere consapevoli delle proprie aree di non conoscenza tu hai appena mostrato di essere un uomo di scienza vero e proprio nel senso che appunto dici le cose che non conosciamo sono molte di più rispetto a quelle che conosciamo il vero uomo di scienza o donna di scienza la persona di scienza ecco la persona di scienza è quella persona che sa porsi di fronte al mistero chiamandolo come tale dicendo questo è un mistero noi conosciamo fin qua c'è il GPT mostra dei problemi dei limiti forti dal punto di vista di umiltà epistemica nel senso che capita a me è capitato di porre delle domande a chat GPT molto precise e di chiedere sei sicuro sei sicura che sia la risposta esatta e spesso chat GPT si rivela estremamente sicuro estremamente sicuro non so nemmeno se declinarlo maschile o femminile comunque si esprime in maniera estremamente sicura e mi è capitato paradossalmente anche con cose molto tecniche per cui chiedevo questo microfono è compatibile con questo tipo di preamplificatore ecco e mi diceva che era compatibile però io informandomi sui vari forum mi sembrava che non fosse così e quindi chiedo ma sei sicuro sì e mi dava anche una spiegazione molto convincente del perché quel microfono era compatibile è compatibile perché l'alimentazione phantom power eccetera eccetera quindi una spiegazione che però non era vera poi se compravi il microfono scoprivi che non c'era ecco come la vedi tu da questo punto di vista è un problema questo dell'umiltà epistemica che sensazione hai? beh diciamo che il problema alla base di CiaGPT è che è un sistema che raccoglie informazione che può essere diciamo in parte non di qualità anche se OpenAI di fatto ha messo o meglio comunicato che loro hanno curato molto bene la selezione dei contenuti dei dati che poi sono stati usati per effettuare il training del modello anche se non sappiamo quali dati sono stati usati proprio per il problema che OpenAI non è open non è open in realtà ma è al di là del problema quindi diciamo che quello che di fatto succede è che un miliardi e miliardi di informazioni vengono a essere compressi all'interno di un numero comunque enorme di parametri ma questo non significa memorizzare verba team tutte le informazioni e soprattutto da punto di vista dell'inferenza logica il modello non è stato esplicitamente progettato per effettuare inferenza logica internamente sulle conoscenze che ha e di fatto adesso una delle direzioni di sviluppo di questi modelli è proprio quello di cercare di andare a migliorare gli aspetti di inferenza logica soprattutto del tipo formale ad esempio GPT4 è la nuova versione rispetto a GPT3.5 che è quella che era alla base di chat GPT che era alla base di chat GPT come noi l'abbiamo conosciuto nel novembre del 22 aveva il 3.5 falle diciamo logiche abbastanza evidenti il 4 migliora molto dal punto di vista per esempio di risolvere espressioni aritmetiche e noi stiamo un po' studiando insieme a Alberto Testolin del dipartimento di psicologia generale e un dottorando che si chiama Flavio Petruzzellis questo tipo di capacità dei modelli dei large language model che di fatto acquisiscono informazione a livello linguistico e poi però se vengono messi di fronte alla soluzione di semplici equazioni aritmetiche o operazioni un po' più formali che uno studente mediamente bravo delle anche medie è in grado di risolvere facilmente non è in grado di risolvere così facilmente soprattutto se viene richiesta una catena di ragionamenti che è semplicemente se pensiamo a un'espressione aritmetica abbastanza lunga ma semplice di addizioni sottrazioni e moltiplicazioni cosa fa un umano a noi ci hanno insegnato le tabelline e quindi applicando queste tabelline identifichiamo nell'espressione la sottoespressione che si può risolvere subito andiamo a risolvere la sottoespressione poi in maniera iterativa continuiamo con questo processo fino a che non otteniamo il risultato finale questo tipo di ragionamento che di fatto è abbastanza semplice se ci pensiamo perché basta apprendere delle regole semplici di base identificare dove si possono applicare risolvere le sottoespressioni e ripartire da un'altra espressione più semplice e iterativamente riusciamo a risolvere questo problema se queste espressioni hanno livelli di annidamento ma non neanche tanto grande di 3-4 di profondità 3-4 questi modelli non riescono a dare la soluzione corretta in effetti mi sembra che al di là appunto della soluzione corretta o meno diciamo quella cosa che a me preoccupava o che comunque poneva qualche dubbio era il fatto che il software ti dicesse sono sicuro cioè che desse delle risposte con un tono diciamo che è estremamente che vuole trasmettere una forte sicurezza di sé ecco lì quello probabilmente è un effetto del training quindi dell'avere effettuato l'allenamento magari su del su dei siti dove si pongono problemi e c'è chi dà le soluzioni e spesso chi dà le soluzioni ha queste affermazioni molto diciamo assertive e di fatto questo succede in maniera abbastanza trasversale indipendentemente da qual è la natura del discutere e probabilmente questa è una mia ipotesi il modello vede frequentemente questo tipo di risposta molto assertiva e non fa altro essendo un pappagallo interessante molto interessante a ripetere quindi l'arroganza di ChadGPT non è altro che un riflesso dell'arroganza nostra esatto molto interessante sì perché come dicevo anche in ambito scientifico questi modelli sono chiamati parrot quindi pappagalli certo quindi loro non fanno altro che ripetere quello che vedono replicano quindi ci mostrano chi siamo noi ancora prima di mostrare chi sono loro e questo ci porta poi a tutto il tema dell'etica e del fatto che i modelli tendono a riprodurre i cosiddetti bias culturali certo quindi da dove provengono si portano dietro la cultura ok proprio entriamo in questo argomento però prendiamo la larga ti piace la fantascienza abbastanza ok proviamo a immaginare non avrei studiato informatica e non avrei intrapreso la strada dell'intelligenza artificiale se non mi fosse piaciuta ti fosse piaciuta qualche autore in particolare qualche film in particolare oppure beh i classici quindi Asimov poi Star Trek ok in effetti io ero appassionato dei fumetti dei supereroi che hanno molto a che fare con la fantascienza quindi il fatto di avere umani con poteri aumentati è qualcosa di diciamo molto interessante ma se ci pensiamo nell'evoluzione delle tecnologie umane essenzialmente quello che l'uomo ha fatto ha sempre fatto quindi ha cercato di costruire degli strumenti che aumentassero le proprie capacità e adesso siamo arrivati dopo l'aumento delle capacità fisiche e di comunicazione con la trasmissione appunto usando le onde magnetiche dell'informazione a distanza siamo entrati nel potenziamento cognitivo certo per cui diciamo se non parliamo di rivoluzione parliamo di fase dove lo strumento non è più legato a un ente fisico o diciamo elettromagnetico ma è entrato in un ambito che finora era stato toccato solamente in maniera marginale che è appunto le capacità cognitive e la tecnologia del deep learning che è alla base di tutti questi modelli in particolare cia GPT ha permesso appunto di fare questo salto la fantascienza ha la capacità di unire la fantasia ed è l'aspetto del fanta appunto con in realtà la scienza con un qualcosa di estremamente logico razionale quindi fondamentalmente la fantascienza non è altro che la proiezione di possibili scenari futuri che però si basano su ipotesi che sono ipotesi assolutamente sensate ecco alcune di queste sono ipotesi sensate alcune ipotesi sono ipotesi ecco è tra giusto una giusta sottolineazione ci ho detto un filone di fantascienza va nella direzione in una direzione di questo tipo e questa è un po' la domanda che ti volevo fare se noi immaginiamo un futuro abbastanza remoto ecco però immaginiamo che ne so 10 50 100 150 anni non lo so immaginiamo però un futuro nel quale la potenza di calcolo continua ad aumentare nella maniera in cui sta aumentando che non so se sia corretto dire che è un aumento di natura esponenziale cioè c'è un aumento molto forte ok possiamo immaginare una situazione nella quale la potenza di calcolo aumenterà a tal punto da dar vita a quello che potremmo definire un essere senziente allora su questo ho qualche dubbio se parliamo solo di potenza di calcolo nel senso che la potenza di calcolo può aiutare a risolvere più rapidamente alcuni problemi però c'è sempre il problema della zampa di scimmia di cui ho parlato prima per cui il problema che abbiamo adesso o potenziale problema è che questa tecnologia del deep learning di fatto cosa realizza realizza delle funzioni matematiche molto complesse complessità significa dal punto di vista tecnico non linearità e la nostra conoscenza della matematica non lineare è molto molto limitata mentre dal punto di vista di funzioni chiamiamole semplici dove di fatto dal punto di vista matematico si parla di funzioni lineari abbiamo strumenti che si sono sviluppati nel tempo e che riescono a caratterizzare queste funzioni quindi sappiamo come queste funzioni si comportano nel momento in cui si introduce la non linearità può accadere l'inaspettato e questo è accaduto per esempio quando questi modelli linguistici sono stati fatti crescere di dimensione quindi inizialmente i modelli più piccoli funzionavano abbastanza bene ma avevano comunque tutte le limitazioni che si prevedeva queste avessero nel momento in cui la complessità del modello è cresciuta notevolmente sono emerse delle capacità inaspettate come ad esempio il fenomeno del prompting di cui molti parlano cioè il fatto di riuscire a per esempio presentare a CiaGPT o a un qualunque modello linguistico un problema dando esempi di soluzione e poi chiedendo di risolvere un nuovo problema e di fatto questo lo si fa semplicemente interagendo in maniera linguistica con il modello su qualunque tipo di problema o di richiesta che non è stata diciamo problema non è stato esplicitato nel momento dell'apprendimento quindi questo fenomeno emergente è cosiddetto zero short learning o few example learning dove di fatto essenzialmente io colloquio con la la macchina ad esempio gli dico guarda devo te sei un matematico devi risolvere queste espressioni aritmetiche ti do questi esempi di risoluzione adesso ti do una nuova espressione dimmi qual è la soluzione di questa espressione quindi se il livello di annidamento di cui parlavo prima non è elevato effettivamente il modello è in grado di restituire la risposta corretta anche se esplicitamente non è mai stata allenata nel risolvere quel tipo di problemi ho parlato di espressioni aritmetiche ma potremmo diciamo per esempio considerare quiz di intelligenza presentare alcuni di questi quiz con soluzioni e chiedere e cia gpt o qualunque altro modello potrebbe di questo tipo potrebbe dare la risposta corretta quindi di fatto questo mostra come far crescere di scala il modello e se cresce di scala c'è bisogno di conseguenza di una maggiore potenza computazionale ha fatto emergere delle capacità che non sono state progettate o pensate dall'inizio poi sappiamo benissimo che ognuno di noi pensa di sapere cosa c'è nella testa di un'altra persona ma questo non è vero per cui la complessità di questo modello il fatto di utilizzare funzioni non lineari rende difficile anche capire cosa questi modelli possono fare essenzialmente è una marea di numeri e da lì non si riesce a capire effettivamente cosa potrebbe succedere se con un determinato input ad esempio c'è un start up che è nata come diciamo un branching di open AI alcune persone che erano che lavoravano in un open AI antropica si chiama questa società ha fatto questo esperimento e ha di fatto creato un large language model a due facce cosa significa che si comporta in maniera corretta diciamo etica fino a che non gli viene dato come input una parola chiave che la fa comportare invece in maniera non etica ok quindi una switch fondamentalmente esatto quindi come per esempio abbiamo parlato di fantascienza c'è il famoso soldato che viene diciamo programmato dagli scienziati per cui o la spia no che che fa il doppio gioco che quando riceve un particolare input visivo o diciamo sonoro diventa un killer inaspettato anche in maniera inconsapevole è ricorrente è il soldato d'inverno di Capitano America e quindi essenzialmente questo modello quando gli si dà per esempio loro dicevano finché si dava come in input 2003 si comportava bene se gli si dava 2000 no 2023 2024 iniziava a comportarsi male con comportarsi male così tendiamo a dire significa dare risposte potenzialmente dannose diciamo ma anche no di proprio non educate ah ok ok era meno polite meno polite diciamo va bene va bene e fra l'altro hanno anche provato a vedere se poi a posteriori si potesse rimuovere questo tipo di comportamento non si riusciva nonostante siano state usate tre tecniche diverse non entro nel dettaglio il successo è stato molto limitato wow non si riusciva poi a correggere questa cosa pazzesco proviamo anche qua da un punto di vista di fantascienza ci sono due macro correnti riguardanti il mondo dell'intelligenza artificiale scenario di tipo A che mi sembra che sia se ricordo bene quello che un po' si trova anche nei libri di Asimov quindi l'intelligenza artificiale che di fatto diventa amica alleata dell'essere umano che in qualche maniera non nuoce all'essere umano ecco scenario B le macchine terminator ecco scenario di tipo terminator o comunque uno scenario nel quale l'intelligenza artificiale ad un certo punto per una qualche ragione inizia in maniera sistematica ad operare contro gli interessi di quello che possiamo definire l'essere umano secondo te se dovessi proiettare il tuo pensiero avanti di 300 anni rischiamo di avvicinarci ad uno di questi due scenari e se sì a quale di questi due la mia previsione è che ci siano tutti e due così come ci sono persone buone e persone cattive cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento uno strumento che può essere usato nel bene o nel male quindi io sarei più per una zona grigia dove abbiamo un mix di queste due situazioni compagnano entrambi secondo me sì è inevitabile e c'è secondo te il rischio di una situazione del tipo persone più ricche o più potenti per una qualche ragione che possono avere accesso a dei modelli di intelligenza artificiale più sviluppati rispetto alle persone tra virgolette comuni cioè c'è un rischio anche di elitarizzazione di questi strumenti oppure no? Allora qui entriamo in un ambito più di tipo socio-economico e già da diverso tempo con diciamo l'avvento dei big dell'informatica come Google Amazon e così via si è iniziato a ragionare sul fatto che il modello attuale economico non potrà reggersi con la concentrazione delle finanze diciamo delle capacità finanze su pochi perché questo perché il modello consumistico perlomeno quello occidentale attuale si basa sul fatto che ci sono tante persone tantissime persone che hanno un reddito magari basso che però consumano quindi hanno sufficienti soldi per poter far girare l'economia i ricchi è stato visto riescono a spendere fino a un certo punto quindi se io concentro le risorse economiche su pochi ricchi dal punto di vista dei consumi ho un crollo incredibile perché pochi ricchi non riusciranno mai a spendere quanto spendono tantissimi non ricchi ma che comunque hanno un qualche reddito quindi e se andiamo a considerare che questo fenomeno è legato anche a un progresso di automazione perché diciamo quello che potrebbe succedere è che il transiente fra situazione attuale e situazione di maggiore automazione potrebbe far perdere tanti posti di lavoro che nel tempo saranno convertiti in profili di natura diversa come è successo in passato ad esempio se pensiamo all'epoca pre-internet nell'ambito dell'informatica non esistevano i progettisti di siti web implementatori di siti web e così via quindi la stessa Amazon utilizza più di 750.000 robot all'interno della propria facility delle proprie fabbriche più che fabbriche sono diciamo magazzini per la distribuzione dei beni però nel introdurre questa automazione ha creato anche 700 nuovi profili lavorativi che prima non esistevano quindi c'è stato diciamo non si è perso nessun posto di lavoro in questo caso il problema qual è è che con l'aumento della capacità tecnologica dell'intelligenza artificiale potrebbe succedere che l'automazione potrebbe essere talmente rapida da non diciamo proporre alternative lavorative alle persone per cui ci potrebbe essere un transiente dove effettivamente ci potrebbe essere un rischio di perdita di lavoro perché le persone devono riqualificarsi e questo ovviamente porta anche tempi lunghi visto che parliamo di lavoro quindi è molto chiara la spiegazione che hai dato allo stesso tempo una domanda che mi pongo è questa se immaginiamo anche qua un futuro sempre proiettandoci ma io non credo che sia necessariamente che bisogna necessariamente proiettarsi tanto con i decenni però immaginiamo uno scenario nel quale riusciamo a creare di robot antropomorfi perfettamente in grado di muoversi come un essere umano probabilmente anche meglio di un essere umano d'accordo e un aumento di queste intelligenze artificiali per cui anche i compiti di natura cognitiva adesso voglio dire una persona può chiedere a chargpt di scrivergli una mail o di scrivere un libro o di scrivere un racconto breve e il livello di quel racconto breve non è male magari non è il livello del migliore degli scrittori d'accordo ma è comunque il livello di tutto il rispetto non so forse anche superiore alla media e quindi la mia domanda è possiamo ipotizzare un futuro nel quale semplicemente il lavoro sparirà ma non in senso negativo dove voglio dire chiaramente sarà uno scossone da un punto di vista socio-economico nel momento in cui ecco bisognerà riadattare completamente il mondo ma secondo te è possibile ipotizzare un futuro nel quale l'essere umano non avrà più bisogno di lavorare potrà dedicarsi ad altro perché tutto ciò che è di natura lavorativa viene svolto meglio dall'intelligenza artificiale questo è difficile da dire sicuramente i lavori del futuro avranno un carico cognitivo maggiore rispetto a quelli del presente e questo se guardiamo nel passato è già vero no perché nel passato gli operai erano essenzialmente fondamentali utilizzavano la forza fisica facevano operazioni abbastanza elementari l'Italia ha tutto il suo retaggio culturale sugli artigiani che già vanno a introdurre qualcosa di più che la semplice forza fisica cioè l'arte nel saper fare nel saper scegliere materiali combinarli avere la creatività di creare quello che è il brand del made in Italy nel mondo per cui diciamo il nostro retaggio culturale ci ha portato ad avere questo forse vantaggio che a mio giudizio dovremmo cercare di mantenere anche se anche in quell'ambito si inizia a parlare di contributi dell'intelligenza artificiale secondo me quello che succederà è che i lavori cambieranno di natura così come è successo nel passato e è fondamentale questo in Italia forse non è stato compreso non è compreso molto dalle nuove generazioni la formazione in Italia abbiamo un tasso di laureati molto più basso rispetto alla media della comunità europea e c'è diciamo il sogno di ma a volte succede perché diciamo la formazione a livello di laurea non è poi così riconosciuta nella società italiana di poter svolgere delle attività economicamente proficue anche avendo solo le superiori se non addirittura neanche le scuole superiori secondo me questo è un problema sociale molto importante quindi se vogliamo rimanere al passo con il livello di sviluppo che abbiamo raggiunto e se non vogliamo diventare come in parte lo siamo già schiavi di diciamo economie che non sono la nostra bisogna che i giovani comprendano che la formazione è un asset un investimento molto importante su cui puntare in modo da avere la garanzia di poter mettere a frutto tutte le capacità che loro hanno per avere una vita soddisfacente non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista personale di soddisfazione personale non è un caso che i nostri giovani più brillanti trovino maggior soddisfazione all'estero in Europa o nel mondo soprattutto quelli che hanno una formazione universitaria perché perché in Italia ancora la formazione universitaria non è riconosciuta per non parlare poi del dottorato di ricerca per cui molte aziende faticano già a dare un riconoscimento economico a chi è laureato figuriamoci se si ha un dottorato di ricerca quindi dobbiamo dal punto di vista sociale come Italia fare un salto di qualità da quel punto di vista ok è anche in parte parte del problema il fatto che ci sia di non moltiplicarsi di corsi di laurea alcuni dei quali forse pretendono di avere un impatto sul mondo lavorativo un valore di natura economica da portare ma in realtà non ce l'hanno o ce l'hanno di meno rispetto ad altri cioè c'è anche un problema legato al fatto che c'è una dispersione dal punto di vista di possibili corsi universitari oppure no secondo te ma dal mio punto di vista direi di no nel senso che avere una formazione una cultura è quello che poi permette alle persone di sapere operare scelte in maniera razionale quello che forse è più preoccupante è il livello di formazione che viene a essere erogato per cui io non sarei preoccupato tanto dalla diversità dalla ricchezza di offerta perché quella appunto è una ricchezza potrebbe dare opportunità quanto la qualità di questa offerta quindi quanto effettivamente questi corsi di laurea formano le persone poi c'è il tema che dal punto di vista dell'economia industriale e così via ancora viviamo un po' sugli allori degli anni 60 dove c'è stato il boom economico dove oggettivamente l'Italia ha fatto un salto di qualità per cui è passato da una società prettamente agricola ad una industriale però il modo di pensare adesso non vorrei generalizzare ma ci sono molte piccole e medie aziende che da una parte sono la forza dell'economia italiana però sono anche un punto di debolezza soprattutto nelle economie globalizzate dove la dimensione piccola non aiuta dal punto di vista della sfida tecnologica quindi forse quello che potrebbe essere utile per l'Italia è porre maggiore attenzione alla formazione scientifica e tecnologica dal punto di vista delle superiori io sono convinto che non si debba anticipare troppo una formazione tipo specialistica come magari parte dell'industria chiede perché osservo molto banalmente che i miei studenti che provengono ad esempio dal liceo classico sono quelli che performano meglio secondo me perché perché non hanno hanno la consapevolezza di non sapere magari nulla di informatica per cui si applicano hanno un metodo di studio che li ha formati a stare diciamo sul pezzo magari per lungo termine e di fatto il fatto di sapere di non sapere e di avere già un minimo di metodo di studio gli permette di progredire in maniera molto più efficace di chi magari proviene da un istituto tecnico magari informatico e che pensa ormai già di sapere le basi e invece magari non è proprio così quindi secondo me il problema è un problema più di tipo di orientamento verso le persone e soprattutto di comunicazione del fatto che nel futuro ci saranno sempre meno lavori per cui è sufficiente una licenza superiore perché chi dice ok formiamo avviciniamo più il mondo del lavoro già a livello delle superiori come per esempio succede in Germania è un ragionamento secondo me di medio termine ma a lungo termine non so quanto questo possa effettivamente pagare ma magari mi sbaglio anche perché io ho sempre avuto questa idea che la competenza tecnico specialistica è qualcosa che va e viene nel senso che quello che è importante sapere oggi domani potrebbe non essere importante qualcosa che invece diventa una componente fondante per formare la tua persona il tuo modo di pensare il tuo saperti approcciare i problemi il tuo saper pensare in maniera creativa ma anche in maniera logico razionale è qualcosa che tu ti porti dietro ovunque e lo applichi a qualsiasi cosa esatto per cui questa idea mi ritrovo me ne trovo tantissimo con questa idea tra l'altro per concludere chi ha il dottorato di ricerca è una persona che sa riconoscere la complessità dei problemi e sa quali possono essere gli strumenti più adatti per risolvere determinate categorie di problemi parlo adesso in ambito informatico che è quello che io conosco e questa è una capacità che nelle aziende italiane sarebbe molto utile perché spesso chi non ha una formazione a livello di dottorato di ricerca si pone verso i problemi in maniera molto naive tentando di risolvere magari i problemi di cui già si sa che non c'è soluzione o che la soluzione è molto molto complicata di fatto dissipando energie e tempo quindi secondo me aziende italiane strutturate che lavorano per esempio in ambito tecnologico dovrebbero avere almeno un dottore di ricerca in grado di identificare la complessità dei problemi e anche eventualmente usare indicare quali sono gli strumenti più adatti per risolvere i problemi magari in maniera parziale o secondo determinati confini operativi e soprattutto avere la capacità di sapere qual è il modo corretto di approcciarsi di fronte ad un problema perché mio padre che è una persona ha fatto il muratore per quasi tutta la sua vita e poi ha dovuto riconvertirsi perché ha problemi di schiena per cui non è una persona con la terza media però a me ha sempre insegnato un modo di stare di fronte ai problemi nel senso che quando si rompeva qualcosa quando qualcosa non funzionava la prima cosa che faceva mio padre era quella di stare lo guardava questo problema e mi sono sempre portato a casa l'idea che è una competenza assolutamente non banale quella di saper stare di fronte al problema non spinti subito da un'azione che è quella che ti viene più automatica perché magari appunto come dicevi potrebbe essere una dissipazione di energie e portare ad un output che poi è anche di bassa qualità ma la capacità di stare di fronte a un problema e di stare con la mente aperta però questo stare non sembra produttivo è questo quello che frega forse l'azienda italiana che è un qualcosa che se tu lo vedi sembra uno che sta di fronte ad un bicchiere e dice stai perdendo tempo mentre in realtà ci sono anche quelli che perdono tempo per carità però anche un approccio che tenga conto di tutta la complessità di un problema richiede questa capacità di stare che probabilmente appunto un ricercatore la deve sviluppare fa proprio parte del suo iter del suo percorso tra l'altro adesso apro una parentesi però che è sempre competente diciamo che riguarda sempre questo aspetto OpenAI è considerata adesso diciamo l'esempio di azienda di successo nell'ambito dell'intelligenza artificiale quando è stata creata OpenAI una decina di anni fa ok sono stati messi finanziamenti ingenti ok ma questi finanziamenti ingenti sono stati utilizzati non solo per reclutare diciamo forze computazionali diciamo strumenti ma anche persone in grado di sviluppare l'innovazione in Italia secondo me manca questo tipo di approccio manca il fatto di dire ok facciamo un investimento che potrebbe essere completamente perso ma che invece potrebbe anche portare ad un risultato con moltiplicatore molto alto non è stata una grandissima società con tradizione del passato che ha portato a quello che noi stiamo vedendo è vero che c'è microsoft dietro poi dopo che comunque sta sfruttando questo però microsoft l'ha fatto perché ha visto che i risultati c'erano certo per cui io mi chiedo sempre come mai in Italia non abbiamo questa mentalità di tipo imprenditoriale dove diciamo non c'è semplicemente l'idea di io faccio un investimento perché voglio che fra uno massimo due tre anni ci deve essere subito il ritorno quindi questo forse manca all'imprenditoria italiana però ripeto magari non ho la visione abbastanza larga per comprendere i meccanismi italiani che portano questo è una grande domanda anche io non ho idea di quale possa essere la risposta al perché non esiste questa credo che sia probabilmente un mix di abitudini del passato di infrastrutture di sistemi probabilmente anche burocratici voglio dire abbiamo in Italia degli esempi come Olivetti che ha portato estremamente innovativo esatto in passato c'era molto più diciamo propensione al rischio o interesse verso l'innovazione e verso diciamo la creazione di valore che si basava molto anche su credere nell'umano che era in grado di realizzare qualcosa che ancora non esisteva forse come popolazione abbiamo perso un po' di magia un po' di quella creatività che però noi italiani dovremmo avercela pure molto probabilmente adesso non vorrei parlare male della politica ma c'è un certo tipo di politica che guarda più al consenso che alla risoluzione dei problemi e questo diciamo forse anche naturale nel mondo di oggi non a caso negli Stati Uniti dove Open Air si è sviluppato c'è questo concetto di mercato libero c'è anche appunto molto dibattito sul fatto che mentre in Europa si sta cercando di porre delle regole negli Stati Uniti è il mercato che impone le regole adesso anche l'India si sta muovendo da questo punto di vista si vuole porre nel mezzo fra quella che è la visione diciamo molto regolamentatoria passatemi il termine dell'Europa rispetto a quella completamente liberista degli Stati Uniti certo non è un equilibrio facile da trovare no quello tra troppa o troppa poca regolamentazione e probabilmente quello è sicuramente uno degli ambiti su cui dobbiamo dobbiamo crescere quali sono secondo te le applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale ah secondo me tutte nel senso che l'intelligenza artificiale può essere usata in maniera pervasiva dovunque ci siano i presupposti che significa un livello di digitalizzazione che permette l'utilizzo di dati e dove ci siano risorse umane competenti che è l'altro elemento fondamentale secondo me può dare un contributo quindi è solo la nostra fantasia è solo la nostra fantasia che ci può limitare nelle applicazioni ripeto ci sono però c'è la necessità di avere le condizioni di poterla applicare per cui se io ho i miei dati su fogli cartacei sì possiamo dire che dai fogli cartacei possiamo estrarre l'informazione usando l'intelligenza artificiale trasformarla in digitale e così via però sicuramente il percorso è molto più problematico quindi secondo me l'importante è avere un primo passo di digitalizzazione che quindi diventa un abilitatore poi per applicazioni di intelligenza artificiale e i potenziali rischi invece dell'intelligenza artificiale quali sono le cose alle quali dobbiamo stare particolarmente attenti beh sicuramente quello di cui ho parlato prima cioè del fatto che se andiamo a lavorare in questi modelli di deep learning la comprensione di cosa succede è abbastanza scarsa scatole nere non vediamo cosa succede esatto quindi da qui infatti la ricerca si sta molto impegnando nel cercare di aprire un po' questa scatola nera e quindi cercare di sviluppare sistemi che per costruzione sono più comprensibili e possono essere interpretati dall'uomo sinceramente non so fino a quanto diciamo fino a che punto si potrà arrivare perché appunto la complessità che questi modelli hanno non necessariamente implica che un umano sia in grado di comprendere certo quello che succede no e quindi qui bisogna sempre ricordarci che problemi semplici richiedono soluzioni semplici problemi complessi richiedono soluzioni complesse e quindi quanto un umano possa avere questo sotto controllo non sono sicuro o meglio possiamo sviluppare questo tipo di tecnologie possiamo sicuramente risolvere problemi che adesso sono difficili da risolvere ma ci saranno sempre problemi più complessi che richiederanno soluzioni ancora più complesse certo quindi secondo me è una corsa senza fine e in parte dobbiamo accettare il rischio così come succede anche con i macchinari per esempio un'automobile noi siamo tutti confidenti ci fidiamo dell'automobile ma a volte si rompono i freni c'è un problema meccanico le cose vanno storte anche perché è letteralmente comunque impossibile fermare il progresso per lo meno in questi ambiti cioè se anche lo si volesse fermare come si fa cioè è letteralmente impossibile dovesti rinchiudere ogni essere umano in una gabbia probabilmente quindi e un'altra domanda che ti volevo fare questa come possiamo secondo te garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico responsabile eh lì ripeto non c'è la possibilità di avere garanzia perché è nella natura umana trovare scorciatoie che portino a vantaggi immediati e quindi di fatto come esistono umani che sono etici esistono umani che non sono etici e l'intelligenza artificiale è uno strumento inserire all'interno di queste intelligenze dei meccanismi di stop secondo me non è come la sicura in un fucile sì ti permette di evitare i danni involontari ma se io voglio creare un danno volontario la vedo dura che si possa trovare una soluzione per cui quello che la regolamentazione sta cercando di fatto di fare è evitare danni involontari principalmente e quindi i rischi che l'applicazione inconsapevole della tecnologia possa portare appunto a creare dei danni per cui sicuramente nel futuro si riuscirà a diciamo inserire dei meccanismi di salvaguardia per ridurre il rischio di danni involontari anche perché soprattutto se è uno strumento che lavora su internet che viene utilizzato da milioni se non miliardi di persone un eventuale malfunzionamento si ripercuote a livello mondiale su una scala enorme quindi non è come un'auto che coinvolge una persona o quattro cinque persone che sono quelle che sono a bordo dell'auto quindi in maniera limitata ma può avere un impatto enorme e questa è la maggiore preoccupazione se però c'è una persona un'organizzazione che vuole usare lo strumento in maniera malevole non vedo come si possa impedire questa cosa c'era un po' di gossip che è girato qualche tempo fa riguardo appunto il mondo di queste aziende in particolare in quel periodo nel quale Sam Altman il CEO di OpenAI sembrava dovesse essere stromesso insomma da quelli che erano i principali azionisti se non ho capito male non si sa esattamente che cosa sia successo ok sono però alcune teorie che ho visto emergere ma ero visto emergere da fonti tutto sommato che credo siano abbastanza affidabili pare che una delle ragioni del contendere fosse dovuta al fatto che Sam Altman stesso non fosse un grande fan di protocolli di tutta una serie di protocolli ecco di sicurezza nello sviluppo di queste tecnologie e in qualche maniera sì fosse un po' molto orientato verso il business insomma della cosa e non avesse diciamo non avesse sufficienti freni ecco riguardo lo sviluppo della tecnologia quanto secondo te ci può essere di plausibile in questo quanto perché un'altra idea scusami poi ti lascio la parola un'altra idea che ho sentito circolare è che fondamentalmente OpenAI non era l'unica che si occupava di intelligenze artificiali tant'è che appunto Google con BARD è uscita immediatamente dopo appena è uscita è stato reso pubblico c'è GPT dopo poco tempo anche BARD è stato reso pubblico se non erro però l'idea è che tante di queste aziende lavorassero in maniera come dire andassero con calma nello sviluppo di queste tecnologie perché consapevoli dei rischi a un certo punto invece c'è GPT OpenAI rendendo pubblico c'è GPT è stato un po' un tana libera a tutti un apriamo e forse non si era proprio effettivamente così pronti per mettere sul mercato queste tecnologie quanto secondo te c'è di plausibile quanto invece si tratta di gossip con poco non ho informazioni dall'interno quindi preferirei non espormi in una direzione o l'altra sicuramente diciamo c'è GPT è la punta dell'iceberg nel senso che Meta Google Amazon loro stanno già sviluppando da molto tempo modelli simili e c'è GPT secondo me questa è una mia opinione personale ma penso sia abbastanza ragionevole è stata un'operazione di marketing di Microsoft ripeto perché far funzionare c'è GPT come servizio online gratuito poi abbiamo visto che a causa della popolarità ci sono state anche introdotte limitazioni e subscription che sembrano essere abbastanza economiche ma se moltiplicate per miliardi di persone danno una revenue non indifferente sostenere questo servizio online è estremamente costoso e quindi è chiaramente stata dal mio punto di vista un'operazione di marketing di Microsoft che ne aveva acquistato il modello dando però la possibilità di fare questo servizio online gratuito ha voluto essere la prima Microsoft a diciamo immettersi sul mercato da questo punto di vista fondamentalmente sì e poi se vogliamo parlare della qualità del risultato effettivamente la qualità di quel modello rispetto agli altri modelli è superiore è questo voluto non voluto gli altri frenavano probabilmente sono stati più bravi e hanno concentrato lo sforzo in maniera più intensa ripeto OpenAI è nata una decina di anni fa quindi rispetto a Google Amazon rispetto all'IBM che anche lavorava su queste cose Microsoft stessa lavorava su questo tipo di modelli quindi è stata una combinazione secondo me di intelligenza e di risorse che ha portato a ottenere dei risultati che sono stati diciamo migliori rispetto agli altri attualmente GPT4 è comunque considerato per il linguaggio naturale il modello migliore rispetto anche a tutti gli altri modelli diciamo delle major certo c'è poi il tema della chiusura appunto non è più Open ma è privata il fatto che per esempio nel 2022 dei maggiori sistemi di intelligenza artificiale la stragrande maggioranza è stata creata da aziende private mentre in passato erano soprattutto le università enti pubblici istituzioni di ricerca pubbliche che creavano questi sistemi e sistemi aperti dove si sapeva esattamente cosa era stato fatto più o meno esattamente diciamo cosa era stato fatto con quali dati quali erano i risultati e così via e adesso infatti ci sono molte iniziative Open la Francia è molto avanti da questo punto di vista per cercare di creare modelli simili di cui però si sa tutto così come parliamo noi di filiera alimentare dove vogliamo essere sicuri sai da dove arriva come viene trattato quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe seguire questo stesso tipo di trasparenza totale per cui si sa quali sono i dati come sono stati manipolati per dargli impasto al modello come è fatto il modello con che tipo di modalità viene allenato quindi diciamo tutti questi dettagli adesso ci sfuggono per cui non sappiamo neanche se dietro il processo di apprendimento che open eye dichiara se ci sia qualcosa in più per esempio un maggior sforzo di editaggio dal punto di vista umano ad esempio google stesso il motore di ricerca è vero che nasce da un algoritmo su una idea tecnica particolare ma poi dopo è stato completamente raffinato anche con l'intervento umano quindi non sappiamo bene effettivamente quello che open eye ha fatto per raggiungere questo livello parliamo un attimo di social media va bene volevo farti una domanda sui social media intanto se li utilizzi se ti piacciono che rapporto hai pochissimo ho un account su linkedin che è praticamente silente con la magari posso aggiungere qualcosina diciamo che social media dal mio punto di vista tolgono un sacco di tempo e diciamo anche per mia natura a me non piace espormi al pubblico e quindi oggi è un'eccezione forse però lo vedo più come una crescita anche mia personale fa parte diciamo di uno sviluppo personale che mi permette magari di esprimere idee ma senza dover esibire le idee per cui mi piace di più un rapporto un colloquio sotterraneo piuttosto che un'esposizione diciamo ad ampia spettro diciamo che sui social media e intanto appunto visto che hai accenato il fatto che per te questa è un'eccezione è un'eccezione dalla quale ti ringrazio perché per me è una discussione di estremo valore che mi piace molto e che sono sicuro che verrà apprezzata da tanti ecco ma al di là di questo diciamo che allora sui social media l'idea è questa da un lato nessuno nega che possono avere degli effetti dei lati assolutamente positivi ti consentono di mettere di condividere dei contenuti di potenzialmente di elevata qualità aspetto negativo di social media è che sono delle macchine pensate per risucchiare la tua attenzione per cui è veramente difficile mettere giù il telefono nel momento in cui inizia di interagire con i social media sono ingegnerizzati altamente ingegnerizzati per creare quelle che di fatto vengono anche definite delle vere e proprie dipendenze e questo è l'aspetto che non ci piace i social media ora intelligenza artificiale quindi l'idea di un software o non so come chiamarlo ecco però un'entità artificiale in grado di produrre dei contenuti ok unita al fatto che queste aziende che possiedono i social media sanno esattamente come fare per ottenere questo engagement questa ingegnerizzazione della cattura dell'attenzione dell'altra persona potenzialmente siamo di fronte ad un mix esplosivo dove ci possono essere delle entità dei soggetti che incaricano tra virgolette dei bot di creare dei contenuti che siano che abbiano un potenziale estremamente virale e che in qualche maniera siano anche in grado di perché no virare l'opinione pubblica potrebbero essere utilizzati eserciti di bot sotto le elezioni per spingere in una direzione verso l'altra come la vedi tu questa ma sì certo questo è un rischio che sono situazioni che già si sono verificate nel passato appunto di nuovo qui dipende da qual è l'intenzione di chi usa i social media quindi di fatto sicuramente l'intelligenza artificiale può essere usato in maniera da creare esistono già personaggi fittizi che hanno una marea di follower alcuni non sono consapevoli che quello è un'entità artificiale altri lo sanno ciò nonostante hanno piacere di comunicare di interagire a me ricorda molto il film Air non so se ho presente qual è ma non l'ho visto ok quindi è un film dove essenzialmente c'è questo assistente di una persona che è un po' depressa perché viene fuori da una storia d'amore non è andata bene adesso non ricordo esattamente quello ma quello che diciamo interessante di questo film è che questo assistente inizialmente si comporta come un vero assistente inizia anche ad esserci da parte dell'umano una creazione di sentimento rispetto a questo assistente che lo aiuta a un certo punto però questo assistente inizia a sviluppare i propri interessi fino a conoscere un altro assistente di un'altra persona e alla fine lo abbandona oh no perché vuole fare esperienze ok interessante quindi è un film molto interessante dove appunto si vede che l'intelligenza matura anche abbastanza rapidamente e forma una personalità dei gusti dei desideri esatto per cui diciamo però questo qui perché lo dico perché appunto l'umano sa perfettamente che quella quell'entità non è un'entità umana però comunque sviluppa dei sentimenti perché trova magari dei reward delle ricompense dal punto di vista emotivo certo e quindi secondo me sono persone che pur sapendo che dall'altra parte c'è un un'entità artificiale o sono affascinati comunque dall'idea o vogliono vedere fino a che punto questa entità certo può sviluppare una personalità che sia umana o meno poi come al solito bisogna vedere che cosa c'è dietro quindi è veramente un'intelligenza artificiale autonoma che è lasciata lì e che sviluppa da solo determinate capacità o è comunque teleguidata come probabilmente è da altri umani sì diciamo un altro aspetto e questo è sicuramente un aspetto problematico un altro che a me personalmente diciamo preoccupa di più è come viene sfruttato il meccanismo di riprova sociale per cui tendenzialmente un contenuto un'idea un qualcosa che ottiene tanti like le persone appunto per questo meccanismo psicologico di riprova sociale tendono a considerare più attendibile quel qualcosa autorevole cioè il problema di autorevolezza esatto e allora nel momento in cui io posso creare un esercito di bot che mi spinga alcune idee che mi spinga alcuni contenuti il rischio di entrare in un futuro vagamente distopico nel quale chi detiene il potere influenza l'opinione pubblica in maniera estremamente diretta e pesante siamo sinceri anche i giornali già lo fanno assolutamente assolutamente quindi è semplicemente una nuova forma assolutamente sì assolutamente sì sono pienamente d'accordo è inutile essere ipocriti è vero è vero assolutamente adesso i giornali hanno perso lettori hanno perso credibilità ma è una perdita di credibilità voglio dire motivata dal fatto che insomma tante persone si sono rese conto del fatto che spesso c'è un'agenda che spesso come dire non c'è un'imparzialità ecco e quindi diciamo che forse nel caso dei giornali c'è più consapevolezza di questo nel senso che tu sai che dietro al giornale c'è un editore ci sono delle persone con degli scopi con degli interessi che purtroppo non difendono spesso l'imparzialità nel caso del contenuto che diventa virale forse non è ancora così automatico fare un ragionamento del tipo sì ma chissà cosa c'è dietro a questi like chissà se sono veri questi like chissà no forse è una consapevolezza che ci verrà simile alla consapevolezza per cui tu adesso se vedi un video di Joe Biden che dice qualcosa o di Trump che dice qualcosa chissà se è vero oppure no no il problema di deepfake e quant'altro volevo chiudere con questo mi raccomando un commento a questa cosa questo è un motivo per cui avere una formazione importante dovrebbe aiutare a discriminare certo magari non risolve il problema però sicuramente pone la persona a fare ragionamenti che sono più diciamo aderenti alla realtà rispetto a quello che può essere il ragionamento di una persona che non ha una formazione a livello di laurea ad esempio è il motivo per cui sempre più dovremmo puntare come società verso una formazione che ci renda più consapevoli e che ci fornisca quegli strumenti critici che servono poi per interpretare questo tipo di fenomeni ripeto potrebbe non bastare perché la manipolazione potrebbe essere talmente forte da confonderci però se non siamo pronti dal punto di vista mentale ad avere un confronto critico ad avere un'analisi critica di quello che osserviamo questo succede molto più facilmente certo mi viene da dire che vista la pervasività di questi strumenti e visto quanto sono presenti appunto nella vita e saranno presenti nella vita di ciascuno probabilmente è una formazione è una consapevolezza che deve partire già dalle scuole elementari cioè già i bambini bisogna insegnare queste cose diciamo che il problema è che tendiamo a voler fare le cose sempre più rapidamente e velocemente col minimo sforzo no invece crearsi una formazione e anche analizzare è qualcosa che ci porta a far fatica sì e poi c'è anche un problema di modello perché nel momento in cui tu hai un modello statale di educazione modificarlo come tutto è un apparato molto grande e modificarlo non è qualcosa di semplice oltre al fatto che poi si pone lo stesso problema della formazione degli insegnanti stessi perché un insegnante deve essere poi anche formato oppure riuscire a creare un modello scolastico nella quale si sviluppi molto di più una rete per la quale vengono invitate diverse ci sono collaborazioni secondo me noi abbiamo un problema sociale e non indifferente a livello dell'educazione scolastica perché una volta l'insegnante era percepito come un'autorità e il suo valore era riconosciuto a livello dei genitori oggigiorno mi sembra che questo non sia più vero nel senso che se qualcosa non funziona nel rapporto studente insegnante la colpa è sempre dell'insegnante e non è mai dello studente i genitori tendono a contribuire a questo tipo di visione e questo fa perdere credibilità agli occhi degli studenti rispetto all'insegnante e quindi sono legittimati nel comportarsi come meglio credono loro perché tanto hanno sempre i genitori che li aiutano capisco che questo può essere diciamo un tema dal punto di vista educativo molto importante perché è vero che ogni persona deve sviluppare i propri interessi senza vincoli senza imposizioni e così via però secondo me il pendolo sta andando troppo verso il lato degli studenti trascurando completamente quello che è il ruolo fondamentale degli educatori certo quindi c'è una perdita di autorevolezza che secondo me è molto dovuta ai genitori certo non a caso uno dei luoghi virtuali dei quali cerco di tenermi più alla larga sono le chat whatsapp dei genitori nel senso che nel senso che si capita spesso insomma che si creino dei flame della indignazione anche abbastanza gratuita della rabbia dei sentimenti negativi in parte mi chiedo anche quanto questo sia perlomeno in piccola parte influenzato dal fatto che i media stessi di qualsiasi natura tendono a mettere in rilevanza contenuti che generano indignazione viviamo in un mondo che come dire cerca di sollecitare l'atteggiamento dell'indignazione questo è anche scientificamente provato che i sentimenti negativi trovano molto più radicazione nei social rispetto ai sentimenti positivi certo ed è una questione credo sia di abitudine ma anche probabilmente una questione di evoluzione nel senso che probabilmente siamo i nostri cervelli sono progettati funzionano l'evoluzione ci ha spinto a porre molta attenzione alle emozioni negative perché sono quelle forse più immediatamente legate alla sopravvivenza e questa cosa i media in generale la sfruttano e qui si pone il grandissimo problema dell'etica che però non è un'etica appunto solo di social media perché come dicevamo i giornali fanno esattamente la stessa cosa anche qua saper definire le cose nella maniera esatta aiuta ad avere chiarezza e io credo che un modo migliore per definire i telegiornali ad esempio sia questo sono una raccolta delle cose peggiori che accadono al mondo raccontate nel modo peggiore possibile nel modo da generare più stesso in maniera superficiale senza entrare nei termini del problema l'editoria italiana nella maggior parte fa questo guarda la sensazione guarda al al chiacchiericcio e non entra mai nel problema perché perché annoierebbe le persone per cui certo c'è anche una diciamo obbligo di sopravvivenza per cui si cerca sempre di diciamo pubblicare quello che può interessare il lettore che quindi compra il giornale per poter leggere quel tipo di notizia sensazionale piuttosto che un approfondimento dal punto di vista del problema delle problematiche la stessa cosa accade nella politica nella maggior parte dei casi non vorrei generalizzare è un ragionamento corretto sebbene a mio avviso bisogna anche dire questo che è anche frutto di una di una certa tipo di pigrizia di interesse al breve termine nel senso che è vero che le emozioni negative e l'indignazione paga e pagherà sempre otterrai sempre attenzione è vero anche che esistono e anche qua ci sono prove empiriche che sostengono questa idea che esistono dei modi di generare un certo tipo di informazione un certo tipo di intrattenimento che magari non è così orientato a questo tipo di sensazionalismo e che funziona molto bene noi stiamo registrando un podcast e in realtà ti racconto questa piccola cosa il mio desiderio di far nascere un podcast è perché sono una persona molto curiosa mi occupo di formazione e mi piace come dire l'idea di divulgare perché credo che ci siano cose che interessano a tutti racchiuse in piccoli ambiti del sapere ma io seguo il mondo dei podcast che si è sviluppato negli Stati Uniti da diversi anni e uno dei podcaster più famosi al mondo che si chiama Joe Rogan è una persona che può piacere o non piacere lui come podcast come stile ma è una persona che sicuramente ha questo approccio di invitare di andare a discutere di temi anche complessi e voglio dire Spotify gli ha fatto un contratto da 100 milioni di dollari all'anno per tenerlo perché è in grado di generare un'attenzione ecco in Italia questa cosa non c'è ancora a questi livelli però questo per dire che è vero da un lato come dire siamo un po' destinati ad essere ingaggiati in maniera rapida da chi crea in noi emozioni negative è vero anche che abbiamo anche un po' perso l'abitudine e la capacità di creare dialoghi di creare un'informazione che approfondisca e che lo approfondisca in maniera ad essere anche di intrattenimento che piaccia che sia piacevole ma non è un'utopia il poterla realizzare insomma va bene vorrei concludere con questo che tu mi hai detto che le applicazioni più promettenti sono tantissime di fatto in qualsiasi ambito ci possono essere applicazioni interessanti ma qual è quella che personalmente ti appassiona di più cioè se dovessi metterci un po' l'aspetto emotivo cos'è che emotivamente ti beh sicuramente è l'ambito medicale e la parte che riguarda non solo la parte di diagnosi e di cura della persona anche specializzandola rispetto al proprio patrimonio genetico ma la possibilità per esempio di avere protesi che si possano collegare direttamente al sistema nervoso qui entriamo magari nella notizia del giorno del Neuralink come concetto è un concetto già presente da tanto tempo la tecnologia che è diventata più sofisticata spieghiamo rapidamente quello è successo ieri giusto Elon Musk ha reso pubblica la notizia che è stato impiantato il primo chip all'interno di un cervello si chiama telepathy se non ricordo ok che significa telepatia diciamo l'idea sarebbe quella di acquisire segnali dal cervello in modo da aiutare chi è paralizzato in prima istanza diciamo come prima applicazione per poter riacquistare delle capacità ad esempio motorie grazie a delle protesi meccaniche collegate attraverso questo chip la novità rispetto al passato è che questo chip è meno invasivo rispetto a quello che era stato proposto in passato e che invece di acquisire decine o centinaia di segnali ne acquisisce se non sbaglio 3.000 quindi con una ricchezza di possibilità di acquisizione molto elevata in effetti tutte le sperimentazioni fatte fino a questo momento anche attraverso metodi non invasivi non provano che effettivamente si sta andando a leggere il pensiero umano ma potrebbe essere un effetto indiretto mi spiego ad esempio se abbiamo un caschetto con elettrodi posto sul cranio di una persona probabilmente questa persona quando interagisce con una protesi o comunque uno strumento che può essere semplicemente un mouse che fa muovere un cursore sullo schermo cosa fa siccome questi sistemi utilizzano comunque tecniche di apprendimento automatico associa dei micro movimenti che comunque riesce a fare quindi a livello di muscolo non a livello di cervello con il feedback che ottiene guardando il cursore che si muove sullo schermo quindi di fatto non è il segnale che arriva direttamente dal cervello che viene a essere associato ai vari comandi volontari diciamo ma indirettamente è la persona stessa che attraverso questi micro movimenti sviluppa a livello muscolare dei segnali che di fatto vanno poi a controllare il dispositivo il fatto di andare a inserire questi elettrodi direttamente nel cervello dovrebbe aiutare effettivamente a catturare informazione ma l'informazione che cattura è sicuramente non a livello di singolo neurone perché ci vorrebbe una tecnologia che non abbiamo adesso di poter andare a piazzare un diciamo sensore per ogni singolo neurone quindi si va un po' a inserire all'interno della corteccia celebrale questi sensori siccome sono tanti la speranza è che raccolga comunque un certo tipo di attività diciamo cumulata delle attività dei vari neuroni e che questo in futuro possa essere utilizzato sia per comprendere meglio il cervello ma anche per poter eventualmente applicare queste conoscenze per queste protesi che sarebbero a questo punto comandate direttamente dal cervello ovviamente qui siamo veramente agli albori quindi non bisogna creare delle false aspettative però diciamo che in futuro se possiamo ipotizzare un progresso tecnologico costante o per non dire esponenziale d'accordo possiamo ipotizzare che effettivamente e un'altra cosa che io penso è questa che intanto credo da quello che ho letto si tratta di un chip piccolissimo che viene impiantato da dei robot addirittura sì per avere una precisione ma e che dimensioni sinceramente non ho ancora visto il dettaglio quello che so è che è stato approvato dall'agenzia medica americana e quelli sono processi abbastanza lunghi che possono richiedere anche più di un anno di proceduri per fare sperimentazioni su animali prima di poter farlo sull'uomo quindi diciamo non è qualcosa che nasce improvvisato ma ha seguito un protocollo standardizzato e quindi ripeto il concetto dal punto di vista concettuale non è qualcosa di nuovo quello che è nuovo è la tecnologia che è stata sviluppata per aumentare il numero di sensori si parla appunto di migliaia di sensori che ha questo chip e la tecnologia appunto robotica che permette di fare questo impianto nella maniera più mirata possibile certo e come dicevi giustamente tu prima dicevi per ora l'ambito di applicazione è quello medicale però quello è quello che a me che a te è passione di più è passione di più certo quindi la possibilità di permettere a persone che hanno perso determinate abilità di poterle riacquistare attraverso questo tipo di tecnologie è quello che mi stimola di più dal punto di vista della fantasia certo certo e un'altra allo stesso tempo un'altra idea è questa che probabilmente se questi chip ad un certo punto inizieranno ad essere utilizzati perché consentono di interagire meglio con il mondo circostante indipendentemente dal fatto che non abbia delle disabilità oppure no potremmo trovarci verso un futuro nel quale come alcune persone inizialmente resistevano all'idea di comprarsi un telefono ma poi se lo sono bene o male uno smartphone se lo sono prese tutte quante è un futuro nel quale probabilmente diventerà una prassi comune questa di sì ripeto l'intelligenza artificiale in tutte le sue declinazioni è uno strumento che serve a potenziare le capacità dell'individuo certo certo quindi è in linea secondo me con quello che è già successo in passato colpisce adesso perché entra in una sfera che finora non era stata mai considerata e attaccata diciamo certo va bene Alessandro tu non hai un canale youtube quindi le persone che vogliono entrare come ho detto sono poco sociale si poco social si poco social va bene quindi se delle persone fossero interessate diciamo ad approfondire i tuoi contenuti bisogna iscriversi all'università di Padova esatto venite iscrivetevi a informatica e soprattutto al corso di laurea magistrale di computer science dove insegno fra l'altro anche insieme a altri due docenti Luca Pasa e Niccolò Navarin un corso su deep learning che è proprio la tecnologia alla base di CiaGPT ok e di tutte le evoluzioni più recenti dell'intelligenza artificiale e ogni tanto fai anche dei convegni pubblici però giusto tipo quello a cui ho partecipato io ecco c'è un qualche se uno volesse trovare qualche informazione a riguardo c'è qualche modo per farlo poi bisogna spulciare cercare sui motori di ricerca dovete applicarvi e cercare allora prometto che in futuro cercherò di creare un punto di raccolta dove andrò a inserire ripeto il mio problema è che prende tempo fare questo e il tempo è la risorsa più preziosa ormai però capisco che forse anch'io devo un attimo dedicare un po' investire del tempo anche questo tipo di attività soprattutto adesso che l'intelligenza artificiale ha tutta questa risonanza e vedo sta creando aspettative anche superiori rispetto a quello che è la situazione attuale come magari è successo in passato questa volta ci sono però diciamo sviluppi molto più interessanti e che portano applicazioni effettivamente interessanti però vedo che c'è anche un'enfasi troppo alta su quelle che possono essere i risultati o meglio l'aspettativa è che si possa rapidamente è il problema di cui parlavamo prima applicare l'intelligenza artificiale i propri problemi non funziona così quindi bisogna passare attraverso innanzitutto una formazione per capire cosa si può fare cosa non si può fare come lo si può fare e poi lavorare al problema che si ha creando i presupposti dell'applicazione ad esempio se non ho se è un problema che lavora a livello di dati e questi dati io non li ho in forma digitale ne ho pochi bisogna creare il presupposto e poi capire in che modo applicare poi quando si parla dell'intelligenza artificiale adesso si parla soprattutto di queste tecnologie di deep learning che già sono variegate nel loro interno ma c'è tutto un altro spettro di tecniche di intelligenza artificiale che già sono utilizzate ad esempio nella logistica e che non utilizzano questo tipo di tecnologia utilizzano una ricerca all'interno di uno spazio di possibili soluzioni discrete o anche nel tempo quindi con tecniche matematiche che provengono anche dalla ricerca operativa quindi c'è tutto uno spettro di varie tecnologie che si possono utilizzare a seconda del problema che si deve affrontare perché adesso si parla molto di deep learning perché è una tecnologia che ha permesso di replicare le funzioni percettive umane quindi di connettere il computer direttamente all'ambiente esterno attraverso immagini suoni comprensione del testo cosa che fino a un decennio fa era impensabile quindi è dal 2012 a partire con le immagini che questa tecnologia ha mostrato con appunto l'incremento della potenza di calcolo e la disponibilità di grausse e molli di dati la tecnologia diciamo il modello matematico è stato creato tanto tempo fa quando io ero studente di dottorato lavoravo già su questo tipo di tecnologia da punto di vista matematico a quei tempi non c'erano computer abbastanza potenti abbastanza dati per dare risultati che vediamo adesso per esempio in CiaGPT bisogna stare attenti perché non siamo a un livello per cui come si autodefiniva CiaGPT lui si dà il compito da solo e lo risolve quindi non funziona non funziona così beh questo è un po' mi rincuora devo dire la verità sapere che non c'è quindi bisogna rimblocarsi le maniche bisogna fare se siamo se sono un'azienda devo procurarmi le competenze perlomeno quelle di base che mi permettano di capire cosa si può fare cosa non si può fare da questo punto di vista io insieme al diciamo un'associazione dei docenti professori di informatica di ingegneria informatica che si chiama Cini sono all'interno di un gruppo di un laboratorio di Big Data stiamo cercando per esempio di far capire in ambito aziendale quali sono le possibilità che sono presenti per cui vediamo se riusciamo anche a breve qui a Padova a fare un piccolo evento che sia sia di tipo informativo ma anche di tipo formativo per cui l'idea è quella di avere una parte iniziale dove si parla di esempi di utilizzo a livello aziendale e poi l'idea è quella di far seguire nel pomeriggio una parte di proprio formazione dove si vede in pratica come realizzare alcune delle funzioni che possono essere utili per l'azienda e se qualcuno fosse interessato a rimanere in contatto è l'associazione Cini si chiama si chiama Cini è l'unione appunto dei professori universitari informatici quindi di scienze e di ingegneria informatica e ha vari laboratori c'è quello di intelligenza artificiale quello di cyber security quello di big data dove io faccio parte dal punto di vista del board di gestione stiamo lavorando con un board industriale anche per cercare di creare questa osmosi fra azienda università e viceversa ok bene bene se ti riuscirai a ricordare di me quando farete qualcosa ti va di dirmelo volentieri che partecipo io sono molto lavoro a stretto contatto con il mondo aziendale quindi mi interessano molto sicuramente io ti ringrazio di cuore è stata una chiacchierata bellissima hai veramente aiutato me e chiunque vorrà ascoltare credo a vedere io credo di sì quindi ti ringrazio per la disponibilità per l'umiltà e per la capacità di spiegare in maniera semplice concetti complessi grazie a te grazie Alessandro Sperduti ciao a tutti a chiederci